Dubbi e incongruenze sull'operazione dell'ospedale a Padova Est. Gli evidenzia il deputato PD Naccarato che nei mesi scorsi ha depositato anche un esposto in procura. Il primo riguarda l'assetto idrogeologico. Perché ci sono perizie che dicono cose contraddittorie tra di loro, in alcuni casi firmate dagli stessi dirigenti e non si capisce bene quali siano, diciamo così, la veridicità dal punto di vista tecnico di queste perizie. Il secondo dubbio riguarda i terreni che a Padova Est il Comune ha ottenuto gratuitamente. Quelle erano aree che valevano poco o niente, spesso di società in stato fallimentare, che dopo questa decisione hanno via via riacquisito valori e questo è il classico caso di speculazione edilizia. E poi c'è la posizione di un consulente che per Naccarato sarebbe in conflitto di interesse. Il consulente dell'azienda ospedaliera per gli aspetti legali sul nuovo ospedale, che è uno dei soggetti determinanti in questa scelta, che interviene più volte nel comitato tecnico, e anche il socio di maggioranza della società che ha ricevuto il mandato di valorizzare un'area confinante con quella del nuovo ospedale. E questo significa che o tutela gli interessi dell'azienda o tutela gli interessi dell'area che deve valorizzare. Il PD solleva poi la questione relativa alla decisione da parte della Regione di seguire una procedura straordinaria, che di fatto estromette la provincia. L'improvviso vuol seguire procedure più rapide. Noi siamo preoccupati che dietro a questa decisione ci sia la volontà, come è successo purtroppo anche in altri casi per la realizzazione di opere pubbliche, di voler aggirare la normativa ordinaria. E questo ovviamente è un aspetto che non ci convince. Grazie a tutti.